Emilio Aldeghi, Presidente del CAI, prima edizione di Monti Sorgenti, di cosa stiamo parlando? Monti Sorgenti è nato all'interno del CAI con l'idea di donare alla città di Lecco un evento che potesse davvero avere una risonanza al di fuori del locale. Pian piano nella costruzione, visto la collaborazione di altre associazioni, la Fondazione Cassin, il gruppo Ragni e si spera nel futuro per le prossime edizioni di allargare anche ad altre associazioni questo evento. Proprio perché il tema principale è la montagna e la montagna deve essere non un patrimonio di un soggetto ma un pochino il patrimonio di tutti e di tutti i lecchesi. Abbiamo cercato di creare un evento diversificando nel corso delle varie giornate momenti fotografici, momenti di grafica, momenti più alpinistici, mostre fotografiche e facendo perno sull'evento centrale di questa edizione Monti Sorgenti che è il cinquantesimo della conquista del Mechille fatto dagli alpinisti lecchesi nella spedizione Città di Lecco. Noi speriamo con questa iniziativa di dare uno scossone alla città stessa e di creare davvero un momento forte per la montagna. Quando inizierà? Monti Sorgenti inizierà il 23 proprio al Teatro della Società con il cinquantesimo del Mechille e terminerà la domenica 29. Monti Sorgenti inizierà la domenica 29.